Quando quello spedizioniere giovane lì ha preso il bossello in testa, era addirittura lì in terra dal vagone dove io era a fare il piatto della Ferrero, di quella roba lì, e si è strappato, ha portato a bordo il piatto, lavoravamo col bigo perché la gru era impegnata, e ha portato a bordo il piatto, il piatto ha preso un po' di van, come ci diciamo noi, di oscillazione, e si è strappato il cavo del bigo di là, e il bossello ha preso il van, il bossello dove ci rotola tutti i cavi dentro, il bossello sarà sempre un bossello di legno così, quei cavi dentro sarà sempre 10 kg, però prendendo il van che si è strappato il cavo, il bigo sarà una tonnellata, sarà 300-400 kg, è venuto in qua, ha portato, questo qui l'ha preso proprio nella tempia, figura, a parte quei due incidenti lì, io ne ho visto un altro terribile che di notte ha ambarcauto il riso, e uno del tiraggio è arrivato in ritardo, è arrivato in ritardo, faceva un pezzo di omone così, e tanto eravamo fermi, aspettavamo la manovra che ci portasse gli altri vagoni carichi, e ho detto va bene, vado a prendermi un caffè, tanto che arriva, prende i volti, arriva i carichi, vado a prendermi un caffè, arrivo lì, vedo che c'è una marea, tutti quelli del tiraggio, dei facchini, tutti gli ammucchiati, e la macchina della manovra ferma, allora c'era ancora la macchina a vapore, non c'era ancora il diso, i trattori, insomma quello lì a farle in breve ha attraversato i vagoni, quando la macchina veniva a prendersi, e l'ha schiacciato proprio tra un respingente e l'altro, aveva premura, si vede che ha detto ce la faccia passare, tempo che veniva a prendersi i vagoni, no? E se non ce l'ha fatta l'ha preso, secondo corso l'ha schiacciato. Il silo, io ero responsabile per i sei persone che erano in terra, e le sei persone che erano a bordo, il silo quando è stato messo su era già con gli aspiratori, diciamo, no? Aspiratori che i sei del bordo andavano, spostavano l'aspiratore nei canti, quando ce n'era più poco grano, subito mettevano quattro aspiratori, aspiravano finché arrivava alla fine della stiva, poi scendevano queste sei persone e spostavano il tubo negli angoli, tutti i tubi, perché poi dai quattro tubi ne partiva altri due, che venivano manovrati da queste sei persone, no? E noi poi dei silo grossi caricavamo il camio e i vagoni. Era un po' faticoso quando veniva i cami che caricavamo, facevamo i sacchi e poi si mettevano sui cami. Invece quei vagoni, venivano quei vagoni con l'oblò, si metteva dentro la, diciamo, la tramoggia, diciamo, no? Il tubo della tramoggia, poi si apriva la tramoggia e si caricava i vagoni così. I vagoni erano un po' più, però la polvere ce n'era. Io fortunatamente la pativo e non la pativo, però mia socia era buonanima, mi faceva delle gran pentole di acqua con la cipolla. Era l'unica cosa che portava via, all'indomani portava via la febbre, perché qualche volta veniva anche la febbre. Le fave, per esempio, tanto ci veniva dei ciotoloni così in faccia da tutte le parti, la pece. La pece, tanti si coprivano con il fango. Andavano tutti a bordo, sembrava che fosse la notte di Alduila. Erano tutti, ci mettevano tutti il fango perché faceva proprio, veniva via la pelle così, la pece. Specialmente loro che erano a bordo, capisci? Forse loro la sentivano di più perché, essendo a bordo, la polvere la prendi di più. Lui magari in terra andava sulla tramoggia, poi ti mettevi un po' controvento, un po' di polvere te la salvava. Grazie.